La riforma costituzionale che andremo a votare fra pochi giorni sarà un pro contro Renzi? Non è un pro contro Renzi, anche perché per dire di sì o di no al governo Renzi ci saranno le elezioni politiche e vedrà che non saranno molto lontane. Questo è un sì o un no a una riforma delle regole fondamentali su cui si regge la nostra democrazia. E sono regole quelle che il sì vorrebbe cambiare di semplificazioni, fermi i principi fondamentali della Carta Costituzionale. I toni di questa campagna sono stati molto alti, come la vede, adesso siamo ormai alla fine di questa campagna elettorale, come vede questa contrapposizione tra il PD soprattutto e un insieme di altri partiti che vanno dalla destra all'estrema sinistra. Sì, ma vedi, proprio in questo senso è stata sporcata dalla politica partitica, quando invece doveva essere un confronto basato sulle regole che interessano a tutti noi, indipendentemente del fatto che io sia un uomo di centro-sinistra o di centro-destra o di 5 stelle, perché la Costituzione poi è di tutti. Poi c'è il momento dello scontro politico per le grandi politiche di sviluppo del Paese. Purtroppo ha preso questa piega, però io confido che negli ultimi giorni i cittadini, e il sentimento popolare è molto più profondo di quanto si possa pensare, e io penso che i cittadini negli ultimi giorni invece rifletteranno proprio sul merito di questo sì o di questo no. E se si va al merito si capirà che questa riforma va verso la direzione giusta. Poteva essere fatta meglio? Io penso proprio di sì. Io non sono un costituzionalista, però va nella direzione giusta. È circolata la notizia che Renzi potrebbe dimettersi in questi giorni per fare un colpo ad effetto, per togliere insomma il voto su di lui, quindi vede che può essere una possibilità? Io non lo so questo, non ho parlato con lui, non lo so. Io penso che non c'è bisogno di nessun colpo di scena in queste ultime ore, c'è bisogno di semmai questo sì di una riflessione. E ultima cosa, visto i vicentini, ha sentito il sentore dei vicentini da sindaco, qual è secondo lei? Voteranno sì o no i vicentini? Ci saranno cittadini che votano sì e cittadini che votano no. La maggioranza dei vicentini voterà sì o no? Non lo so, io spero che voti sì, però i conti si fanno sempre alla fine, a urne chiuse. Sul pronostico quale sarà? Io spero che vinca il sì. Un percentuale? Ci dà una percentuale? No, non sono un mago.